Ciao a tutti, quest'anno con Yamaha Sintonia abbiamo portato la nuova serie che completa la famiglia 5000, preamplificatore e amplificatore stereofonico C5000 ed M5000, non sono ancora in commercio, arriveranno tra qualche mese, ma abbiamo la possibilità di apprezzare il perfetto match che hanno con le NS5000, il C5000 è un preamplificatore sviluppato ex novo così come l'M5000 e si aggiungono all'integrato AS3000, il finale è anche lui completamente bilanciato, diversa la simmetria dei canali destro e sinistro, sul pre si dice al libro, le schede sono una sull'altra speculare, invece sull'ampli sono praticamente accostati i due canali, può essere messo a ponte certamente, a bridge, ci saranno altre eventi, il prossimo immediato sarà bacco tabacco e vinile a Pescara presso il rivenditore Luigi Di Prinzio, poi Yamaha sarà anche presente alla Sia di Rimini, 10 ottobre, che è un'esposizione dedicata alla ristorazione, agli hotel, all'accoglienza in generale.